Che stato siamo dal punto di vista fisico e tecnico? Stiamo crescendo rispetto ai primi giorni naturalmente e la condizione atletica è migliorata ci accingiamo a cominciare questo campionato che domenica dobbiamo essere in una condizione tale da poter essere non dico al 100% ma a una condizione vicina al top per affrontare questa prima partita di campionato Cosa manca in questo dattilo? Si andrà avanti nella ricerca del mercato? È una rosa già completa? Sì, manca qualcosa sappiamo cosa manca lo sa il direttore, lo sa il presidente lo sanno tutti stiamo cercando un attimino di individuare quelle due o tre cose che ci mancano non è facile perché questa data non è facile però qualcosa faremo Qual è la difficoltà di allenarsi a Paceco e giocare eventualmente al provinciale? Qualche difficoltà c'è perché le misure del campo sono diverse è un campo più stretto e dunque c'è qualche difficoltà in più questo non deve essere un alibi assolutamente ora vediamo se troviamo disponibilità magari per il giovedì e sabato per tastare un attimino quello che può essere il campo del provinciale rispetto a questo e dunque se ci danno questa possibilità per noi che ben venga oppure di necessità virtù faremo come stiamo facendo ci alleniamo qua e poi le partite in casa le andremo a disputare in quel campo grazie a tutti